Si chiama Gladys Ledger, è una insegnante che, pensate, è stata licenziata da questa scuola di Londra. Si tratta della Bishop Justus Coffee School, la quale, ripeto, avrebbe deciso di licenziare questo membro nel suo corpo docenti-insegnanti. L'insegnante ha fatto sapere che si sarebbe rifiutata di andare a insegnare l'ideologia LGBT, ossia lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, facendo sapere che ci sono dei valori inadatti, secondo la sua opinione, da trasmettere alla classe. Inadeguati, così avrebbe descritto. Grudis aveva insegnato anche lingue straniere per ben 12 anni, però adesso rischia di non essere più ammessa a una scuola e a insegnare e quindi a svolgere il suo relativo lavoro. Sarebbe stato segnato, infatti, il comportamento ottenuto da Costei all'unette inglese che va a monitorare il comportamento del corpo docenti. E stando a Recusi, Grudis avrebbe fatto sentire a disagio i suoi amati studenti e di conseguenza la scuola avrebbe deciso di licenziare in tronco. Il rischio è che questa donna non possa più lavorare in una scuola, non possa più prestare la sua attività scolastica e quindi che venga, diciamo così, lasciata da sola e abbandonata in un angoletto, senza poter svolgere il suo lavoro, che ovviamente gli dà da mangiare perché gli dà uno stipendio. Che cosa succederà in futuro? Ai post, ritardo sentenza. Se ci saranno eventuali aggiornamenti di questa povera signora, io ve li fornirò per tempo. Ciao a tutti da Narrato Italiano. Ciao a tutti.